Ciao bimbi, vi ricordate la storia del castello di Renome? Quel castello in cui vivevano insieme tutti quanti i nomi? Tutti, 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 proprio no. Infatti c'erano i nomi singolari, i nomi plurali, i nomi maschili, i nomi femminili, i nomi propri, i nomi comuni. Ma dovete sapere che Renome ha dovuto fare una scelta, perché in effetti erano davvero tanti. Infatti decise un giorno che nel suo castello avrebbero vissuto solo i nomi primitivi, cioè quei nomi che non derivano da nessun altro nome. Ad esempio, nel castello di Renome poteva vivere il pane, ma non poteva vivere il panettiere, ad esempio. Oppure ci vivevano i farmaci, ma non si trovava assolutamente una farmacia o un farmacista. Ci potevano stare il latte, ma non i latticini, quindi tutti quegli alimenti che derivano dal latte. Queste parole, panettiere, latticini, farmacia, farmacista derivano da dei nomi primitivi. Panettiere deriva da pane, latticini deriva da latte, farmacia e farmacista derivano da farmaci. Questi nomi non potevano starci nel castello, erano proprio troppi e questi nomi si chiamano nomi derivati, perché hanno origine da un nome primitivo. Il panettiere, la farmacia, i latticini, il candeliere che deriva da candela, la libreria che deriva da libro. Un giorno, però, il re si svegliò ancora una volta con la luna storta e decise che si sentiva un po' troppo stretto. Forse aveva mangiato troppo, ma non ci pensò su due volte nel prendere una decisione, un decreto reale. Decise che da quel giorno non solo i nomi derivati avrebbero dovuto vivere nel villaggio e non nel castello, ma anche i nomi astratti. Potevano rimanere nel castello solamente i nomi concreti. Sì, voglio i nomi concreti, cioè quei nomi che io posso vedere con la vista, che io posso sentire con l'udito, che io posso odorare con l'olfatto, che posso gustare con il gusto, oppure toccare con il tatto, quindi che io posso percepire con i cinque sensi. Tutti gli altri nomi io non li voglio. Il cagnolino, il cane poteva rimanere, i fiori potevano vivere nel castello, il gelato, anche il medico, ma non voleva assolutamente i nomi astratti, quindi le emozioni, tutto quello che si prova, ma che non si può vedere, non si può sentire, non si può ascoltare, non si possono neanche effettivamente disegnare. Le emoji sono solo dei simboli, ma non sono il vero disegno di un'emozione. Ecco, queste non ci potevano proprio stare lì. E non potevano starci neanche le idee, e neanche le sensazioni. Basta tutto ciò, solo i nomi concreti. Allora, un giorno, i nomi primitivi e i nomi derivati decisero di riunirsi, e quindi il pane chiamò il panettiere. I farmaci chiamarono la farmacista e la farmacia. Il latte chiamò i latticini. La candela chiamò il candeliere. Il libro chiamò la libreria. E inizierono a discutere, a discutere finché non decisero di cercare di convincere il re che avrebbe dovuto far rientrare nel castello tutti quanti. I nomi derivati, ma anche i nomi astratti. E così, anche i nomi concreti iniziarono a cercare di convincere il re, il cane, i fiori, il gelato, il medico. E si riunirono con loro le idee, le emozioni. Convinsero il re finalmente, dopo tanti, tanti giorni di discussione. E vissero di nuovo tutti felici e contenti nel castello. Il cane, i fiori, il gelato, il medico, le idee e le emozioni. Nomi concreti e nomi astratti, ma anche i nomi primitivi e i loro derivati. Vissero tutti felici e contenti nel castello, e forse anche un po' strettini.